Nel gennaio del 1988, quando Falcone, solo per continuare il suo lavoro, propose la sua aspirazione a succedere ad Antonino Caponetto, il Consiglio Superiore della Magistratura, con motivazioni risibili, gli preferì il consigliere Antonino Meli. Si scoprì qual era il suo vero obiettivo. Doveva essere eliminato al più presto Giovanni Falcone. Se deve essere eliminato, l'opinione pubblica lo deve sapere e lo deve conoscere. Il pull antimafia deve morire davanti a tutti.